Sì, ci sono. Un grandissimo onore per Pontremoli entrare a far parte della rete di Uffizi Diffusi, questa idea eccezionale che avvicina il massimo livello artistico ai territori della Toscana e non solo, per un'esperienza unica che sono contento che la città e tutti quanti visiteranno la città possa accogliere frequentando Palazzo Comunale e vedendo questo capolavoro di Francesco Aiez. Grazie agli Uffizi per questa opportunità.